Buonasera, per la discussione siamo in compagnia del Presidente dell'Inps Pasquale Trinico. Come vanno i conti dell'Inps e un suo giudizio sulla situazione anche del reddito di cittadinanza? L'Istituto che rappresento, che ho l'onore di rappresentare, gestisce notevoli risorse e prestazioni che sono più forti, che sono più solide, soprattutto in un contesto attuale in cui si riesce a dividere soprattutto ciò che è prestazione assistenziale e ciò che invece è prestazione pensionistica. I conti dell'Istituto dal punto di vista pensionistico sono solidi, noi gestiamo contributi che un domani saranno pensioni. Quello che è importante è garantire un ammontare sufficientemente alto di lavoratori, perché è la platea di lavoratori che garantisce le pensioni domani. Lei dice che ha detto prima durante la presentazione e la discussione che il vero problema è la platea dei lavoratori. Esatto, il problema vero è in effetti questo. Lei pensa che noi siamo un paese grande quanto la Francia, abbiamo 23 milioni di lavoratori più o meno. La Francia è un paese con 60 milioni di abitanti o poco più e ha 33 milioni di lavoratori, sono 10 milioni in più. Ecco, certo ci sono lavoratori in nero nel nostro mercato, quindi 2 o 3 milioni, ma considerando anche questi non raggiungiamo quel livello francese. Ci mancano lavoratori e abbiamo disoccupati, questo è un po' strano, abbiamo tante persone che possono essere riattivate. Oggi lo strumento che è sia assistenziale, ma sia per favorire il reinserimento nel mercato lavoro è quello del reddito cittadinanza, che con le appropriate politiche attive potrebbe oggi garantire un reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e di persone che erano inattive. L'obiettivo è quindi quello di dare lavoro ai giovani, in particolar modo per sostenere anche il gettito pensionistico. Esattamente, l'obiettivo è favorire un inserimento facile nel mercato del lavoro da parte di giovani, ma anche da parte di persone inattive che non sono più tanto giovani. Noi abbiamo tanti inattivi quarantennici che dovrebbero in qualche modo essere spinti, opportunamente sollecitate ad entrare nel mercato del lavoro. Il suo auspicio per l'Inps e per l'Italia? L'Inps ha un ruolo importante, un ruolo di differenza sociale nel Paese e purtroppo per fortuna questo ruolo diventa sempre più importante quando le cose nel Paese vanno male. Al contrario dell'economia privata, quando le cose vanno male le aziende arretano in un certo senso, l'Inps quando le cose vanno male nel Paese avanza perché c'è bisogno di più NASP, di più reddito cittadinanza, di più cassa integrazione. Questo fa la differenza nel Paese, proprio per il sostegno che può dare alla società.